Ciao papà, sei solo? Sì, sì. Posso? Certo, vieni tesoro. Stai bevendo? Eh, forse. E non sono in vena di prediche. Cioè, mi vuoi dire qualcosa? Sì, volevo chiederti il favore. Dimmi. Voglio suonare a posto di Lara nella tournée. Devi solo convincere mamma a darmi questa opportunità. E dove vuoi suonare al posto di Lara? Sì, lo so che credete che io non sono in grado, ma se mi esercito ce la faccio. Ma è un passo troppo grande per te. Ma perché? Abbiamo gli stessi anni di conservatorio. Lei però aveva già acquisito una grande tecnica alla tua età. E tu non sei ancora lì. Io non sono ancora lì, oppure non ci arriverò mai. Perché questo è il credito a tua mamma. E questo è che avete sempre pensato. Erika, ti prego dai. Lo sai che non penso questo. Ah sì. Certo. Grazie papà per lo sforzo. Grazie. 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 Grazie.